E' stato fissato per giovedì prossimo, 21 marzo, dalla DDA di Reggio Calabria l'affidamento peritale sul fucile a calibro 12 con cui sarebbe stato assassinato il 9 agosto del 91 a Campo Calabro il sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione Antonino Scopelliti. L'arma, secondo quanto riferito da fonti investigative, è ancora nelle condizioni, istante lo stato di conservazione, di essere sottoposta alle prove tecnologiche, ai fini dell'interesse probatorio. Come indicato da Maurizio Avola, pentito dalla cosca catanese e la famiglia Santa Paola, ha autoaccusatosi di decine di omicidi, il fucile era stato trovato messi orzono nella campagna catanese sotterrato all'interno di un contenitore metallico, condizione che lo ha preservato dagli agenti atmosferici corrosivi. L'indagine, seppur a distanza di molti anni, confermerebbe anche le relazioni tra l'andrangheta ed in particolare tra le cosche De Stefano, Piromagli e Pesce e la cupola di Cosa Nostra, allora diretta dal triunvirato Riina Provenzano Bagarella, che aveva già progettato l'attacco al cuore dello Stato con l'avvio della stagione delle stragi in Sicilia e in Calabria, organizzando l'uccisione di magistrati, politici e personale delle forze dell'ordine.